Il Crotone è pronto a festeggiare un traguardo storico, il rilancio di Gordaz finisce qua, il Crotone dopo 93 anni di storia per la prima volta conquista la Serie A, impazziti tutti i giocatori del Crotone che si abbracciano insieme ai loro tifosi, è veramente un miracolo sportivo, una squadra nata per salvarsi, ha dominato il campionato e conquista la Serie A quando sono le 22.22 del 29 aprile 2016. Un'ora è una data che entrano nella storia del Crotone, il Crotone Calcio è in Serie A, il Crotone ha veramente disegnato un capolavoro.